Continuano le situazioni di disagio nella città di Agropoli causate da un cittadino ben noto fra gli abitanti, un tossicodipendente che da anni ormai crea problemi alla cittadinanza. La situazione, già di per sé delicata, sta raggiungendo ormai un punto critico, famoso per la sua rivendita di limoni per le vie di Agropoli rubati dai giardini delle abitazioni. Negli ultimi periodi non si sta limitando solo a questo. Numerosi furti di biciclette, anch'esse rivendute, che ruba entrando nei portoni delle case e non solo. Oltre ai furti è spesso causa di disagio anche fra chi, passeggiando per la città, lo incontra sui suoi passi. Nella giornata di ieri però il colmo. Un cittadino agropolese che risiede nella stessa zona dell'uomo ha ritrovato dinanzi alla propria dimora una siringa con all'interno del sangue appartenente al soggetto in questione, utilizzata per assumere sostanze stupefacenti. Il cittadino ha poi segnalato questa pessima scoperta sui social. Il comando dei carabinieri di Agropoli è a conoscenza dei fatti ed è al lavoro per assumere seri provvedimenti verso questa persona, che sta diventando sempre più un problema per la città. Si spera che con l'intervento dei carabinieri guidati dal capitano Fabio Lagarello, le vicende causate da quest'uomo possano terminare. Anche se un intervento deciso dell'amministrazione comunale non c'è mai stato, nonostante la gravità degli atti di questo cittadino e le nostre numerose segnalazioni come emittente televisiva agli amministratori locali, la sensazione è che i provvedimenti, chiesti già a gran voce da tanti abitanti di Agropoli, arrivino troppo tardi e non saranno presi da chi per primo dovrebbe evitare questi problemi nella propria città.